Almeno sei grandi brecce lunghi il segno ancora da chiudere da maggio e nel frattempo i terreni coltivati sono tornati ad allagarsi a novembre. Le rotture dell'argine sono situate fra Castel Bolognese e Tebano. Le due principali, la più grande misurerà una quarantina di metri, si trovano di fronte a via Boccaccio e via Pertini, sulla riva però che guarda Faenza e che rientra all'interno del territorio comunale Manfredo. Il fiume infatti rappresenta il confine Castellano. Durante l'alluvione di maggio dal di qui l'acqua è uscita e si è poi diretta verso la via Emilia, la zona delle cupole. Nel frattempo si è spaccato anche l'argine in direzione di Faenza e l'acqua ha ricoperto pure i terreni a monte del torrente. Gli stessi terreni che sono stati inondati con la piena nella notte fra il 2 e il 3 novembre. Da maggio infatti le varie spaccature non sono ancora state riparate e non si sa nemmeno quando verranno eseguiti i lavori, sebbene l'argine sia stato ripulito. Un'incertezza che pesa sul futuro di proprietari terrieri e agricoltori che ora chiedono chiarezza e risarcimento. Nella notte fra il 2 e il 3 novembre ad esempio l'acqua è fuoriuscita dal segno dalle due grandi brecce di fronte a via Boccaccio e a via Partini ha inondato come se fosse di fronte ad una grande cassa d'espansione un terreno di 16 ettari coltivato a prugne e viti da tre imprenditori diversi. Fra questi c'è anche chi dopo maggio aveva provato a ripartire con l'attività contando sulla messa in sicurezza del segno. Aveva pulito i filari dal fango due volte in entrambe le alluvioni, aveva eseguito i trattamenti a metà giugno, ad agosto aveva completato la raccolta 80% in meno rispetto agli anni precedenti a causa degli allagamenti, aveva nuovamente trattato le piante ed aveva avviato la potatura salvo può interrompersi con il terzo allagamento. Complessivamente 20-25 mila euro investiti per far ripartire l'attività di qualche ettaro senza contare il costo della manodopera degli operai. Investimenti che a novembre sono svaniti nel nulla con il ritorno dell'acqua, così come sono svaniti nel nulla i contributi economici che la regione aveva a suo tempo versato agli imprenditori per avviare gli impianti. Una situazione che può tornare a ripetersi, per questo proprietari e imprenditori chiedono chiarezza. L'ultima volta infatti che hanno visto la protezione civile dicono sia stato a luglio. Gli anni passati nel corso dell'inverno il segno ha sempre raggiunto i livelli d'altezza toccata d'inizio novembre anche più volte nel corso della stagione. Con le brecce non riparate vorrebbero dire altri allagamenti nei prossimi mesi e nel frattempo in agricoltura non ancora chiaro come svolgere le perizie delle due alluvioni di maggio. Gli imprenditori e i proprietari terrieri al momento si ritrovano di fatto danneggiati senza sapere quando riceveranno i ristori con un corso d'acqua che potrà tornare ad allagarli di nuovo senza conoscere se riceveranno risarcimento per le prossime alluvioni o se i loro appezzamenti verranno messi in sicurezza. Alcuni sarebbero anche pronti a trasformare i propri filari in casa di espansione del segno ma chiedono risarcimento e assenza di ambiguità.